Sì, oggi siamo andati a provo con mia cugina, saluta Noemi, saluta, non sorridero, mia zia con mia cugina, il fratello di mio zio e mio zio. Noemi, non si possono prendere, comunque se ci passeremo sulla pedana che avete visto nel mare, vi farò vedere. Ehm, vabbè, qui siamo in uno spazio dove non c'è, uno spazio veramente piccolo, però è veramente grande, infatti mentre cominceremo a camminare, vi farò vedere un po' tutto il fai soggio, quindi ci vediamo dopo. Stiamo scendendo le scale infinite, che ne sono 47, le ho contate. 8, 5, 3, 2, 1, 2. io quando siamo venuti qua portavo al carrozzino degli altri a salire dopo le scende che volevo buttare giù sì dopo la carica Sto registrando dappertutto Scusate lo zoom è perché non si vede bene su questo telefono Guardate che bello, quando scenderemo vi farò vedere tutte le mantelle e cose varie Cosa si dirà? Cina Ciao Ciao Che ti ha detto Noemi? Guardate che bello, sono bufi, non si vede da qui, però sono bufi Guardate pure queste belle lanterne Mi cugina che si lamenta Guardate un po' Guardate In fondo Stanno vicino Si stanca? Non ti puoi stancare Sì, ho sonno Visto che si ci vuole Hai sonno? Stanno scendendo E' a Sara finalmente già arriva di là l'hanno messo la ricetta va direttamente papà noemi si vuole mettere nel passeggio ma se ti vuoi mettere la devo dire per forza oh noi stiamo con la macchina quando torniamo capito? è il casino voi ora non lo vedete nel video però c'è tantissima gente c'è tantissima gente c'è sempre una ragina che si lamenta Sara 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 ci sei in suo mondo aiuto dentro voglio tutte quelle magliette con gli emoji le voglio tutte vero Sara anche tu ciao ciao che bello le voglio ci aspettiamo a stare a Noemi che sta piangendo perché noi ce ne siamo andate non è spazio molto si bello secondo me ne ha fatto sopra quella stessa si si a frattempo bene vieni è pagata è pagata Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.